Eccoci, cari amiche e cari amici, buongiorno, buona domenica, benvenute a tutte. Ecco, aspetta che siamo già in onda, siamo già in onda, mettiti giù dai, vai sereno, è porta di quattro cerchietti. Allora, cari amiche, benvenute, buongiorno, io vi do il benvenuto, sei ore di diretta, canale 124, oggi sempre in nostra compagnia, siamo sempre noi, siamo sempre gli stessi. Sì, siamo sempre gli stessi, siamo sempre noi, non riusciamo ad aumentare il gruppo, e vabbè, pazienza. Allora, sono in ritardino di 5 minuti, ma va bene, ci stanno. Di domenica vi ho lasciato terminare, amiche, il vostro pranzo, con il vostro caffè, per noi naturalmente il pranzo della domenica non esiste, esiste che alle 11 ho fatto la pasta, quindi pensate un attimino alle 11 del mattino fare la pasta con il tonno e mangiarla verso le 11 e mezza, però è così, ogni lavoro naturalmente ha i suoi pro e i suoi contro. La cosa bella poi naturalmente quando stiamo insieme e ci divertiamo. Abbiamo, allora, ho allestito un pochino, non è una gran cosa, vi dico onestamente, perché ho dovuto mettere a posto anche di là, abbiamo apprezzato anche altri pantaloni, altre cosine, quindi anche oggi è una trasmissione bella, ricca. Per le signore che aspettavano i cerchietti, li abbiamo finalmente tirati giù e prezzati per voi, adesso Dario mi ha portato anche qualcosa d'altro, ma sono comunque quelli che abbiamo già nell'inquadratura di stacco e vedrete che sono molto, molto carini. C'è il modello che adesso vedrete che è quello più grande, che è molto bello, ma c'è anche quello più sottile che è veramente una figata, vi dico, è veramente molto carino. Abbiamo naturalmente un po' di bici. Grazie a tutti. Noi naturalmente cerchiamo di accontentarvi, sempre se naturalmente abbiamo il pezzo che vi interessa. Per il resto, amiche, la trasmissione la fate come sempre voi. Allora, poi abbiamo Claudio in regia, poi abbiamo, di là abbiamo Darietto, abbiamo Ale e abbiamo mio marito, ok? I soliti noti, i soliti noti, ok? I magnifici quattro. Esatto, i magnifici quattro. Oggi, amiche, vedete, non sono scalza, oggi c'è lo stivale, oggi c'è lo stivale, ho detto mettiamole un paio di scarpe magari ogni tanto, finché riesco li tengo, poi se no mi vedrete di nuovo scalza, ve lo dico. Allora, siamo pronti ragazzi? Vogliamo vedere magari i cerchiettini e poi parleremo di tante altre cose? Se ci sono signore che mi vogliono salutare, io sono a completa disposizione, il salutino non c'è ancora nessuno, non mi si fila nessuno, bene. Al telefono non mi si fila nessuno, amiche ditemi, Giuseppe da Nettuno ho chiamato prima, ti saluto, un bacione. Giuseppe è sempre presente. Se no niente amiche, siete ancora a pranzo? Siete fuori a passeggiare? Mi sa di sì, ma va niente, dai. Io comunque inizio, diamo l'inizio con...